Ho sempre pensato fosse assurdo nel ventunesimo secolo soffrire ancora per una ceretta. Ecco come sono arrivata a Trinity, selezionando la miglior cera e definendo il protocollo della ceretta ideale. Sono Nadia Rocchetti, ho 53 anni e due figlie e sono titolare del centro estetico WaxUp. L'associazione fra ceretta e dolore è ormai impressa nella mente di tutti. Certo le cere tradizionali sono migliorate ma non hanno risolto il problema alla radice. Sono calde, si attaccano alla pelle e per rimuoverle si strappa danneggiandola. Ecco perché la nostra cera è unica e innovativa. Trinity si stende tiepida e con facilità in un solo millimetro di spessore. Risulta piacevole sulla pelle, non appiccica ed è molto elastica. Il tepore favorisce la dilatazione del follicolo e a catturare il pelo ci pensa la sua speciale formulazione. Così un delicato gesto di srotolamento è sufficiente per rimuovere tutta la peluria da ogni parte del corpo. Il procedimento è semplice e veloce. Si porta la cera a 40 gradi centigradi verificando la temperatura tramite la prova Viberon. Non serve applicare il talco perché Trinity si attacca al pelo, non alla pelle. Si stende con un'igienica spatola di legno monouso e dopo pochi secondi si può procedere con la rimozione tramite srotolamento. È flessibile e si adatta alle curve del corpo. Ingloba il pelo e lo sfila dolcemente. Con Trinity la pelle risulta liscia e piacevole al tatto e dopo due o tre sedute si può constatare una ricrescita rallentata e peli più radi e morbidi. Trinity è la nostra rivoluzione, 100% italiana, perché supera lo scoglio del dolore e mette in primo piano la salute della pelle. Così, ci piace pensare all'epilazione come un vero trattamento estetico, dove la persona si affida alle mani di uno specialista e si abbandona ad un'esperienza rilassante. Sous-titrage Société Radio-Canada